Allora, stai facendo un po' di piatto perché comunque mi ha portato un po' a delle cose che si dovevano migliorare la serie, io faccio un po' di giusto, no, non è bello, è tutto potente perché appunto avendo le proposte tante... ... 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